Sono ormai vicini a sostituire gli umani con i robot, partendo dall'intelligenza artificiale e poi con un corpo. Metà dei lavori si possono fare anche senza un corpo, lo sapete, quindi cosa possiamo fare noi ora per cambiare le cose? Abbiamo una possibilità, una sola, e l'abbiamo per pochi anni, poi non sarà più possibile fare nulla. Beh, è una cosa un po' antica che forse a molti non piace perché ve l'hanno fatta considerare una cosa sbagliata. Lo sciopero. Lo sciopero è in fondo l'unico modo che avevano in passato per salvarsi situazioni peggiori della nostra e se oggi non fossero scioperi ridicoli, settoriali, che servono solo a piccoli interessi di parte, ma fossero scioperi reali, forti, potenti, quello che io sto dicendo è fare uno sciopero totale, assoluto, micidiale, uno sciopero micidiale, dove tutti, tranne quelli che devono salvare delle vite, si fermano e lo fanno ad oltranza finché non ottengono un risultato. Però cosa chiedere con uno sciopero per poter ottenere un cambiamento completo della società? È come diceva in un video precedente, l'unica cosa che noi possiamo chiedere è quella che loro non ci vogliono dare, cioè abbandonare posizioni dominanti, abbandonare capitali, perché l'economia del capitale è fatta in modo di autoalimentarsi. Quindi funziona così, mentre un aero cerca di censurarmi, noi non ce ne rendiamo più nemmeno conto, abbiamo un meccanismo completamente ingiusto, dove se ti hai qualcosa da parte, ma soprattutto hai un capitale, intendo consistente, non qualche milione di euro, grandi capitali, non devi lavorare a una rendita. E questo è assurdo se ci pensate, perché uno che ha dei capitali dovrebbe avere una rendita? Ce lo fanno passare per normale, ma non solo, la società si autoalimentano grazie ai capitali, e quindi si crea tutta una montagna di danaro che è solo finanziario, non esiste veramente, e esiste perché c'è sotto lo schiavo che lavora, gli schiavi, la grande massa degli schiavi che lavora. Questo ora, quando gli schiavi saranno intelligenze artificiali, noi saremo addirittura inutili, quindi peggio che schiavi, perché lo schiavo almeno è utile, c'è la dialettica servo padrone, ma quando togli allo schiavo la sua funzione di schiavo, egli diventa ancora peggio, diventa una specie di essere che verrà probabilmente abbandonato a se stesso, oppure verrà messo lì buono perché non faccia danni, non crea i problemi, e chiuda il suo discorso di vita senza riprodursi, producendosi il meno possibile. E da qui si capiscono tante politiche che stanno venendo fatte in questi ultimi anni, è chiarissimo. Ovviamente le persone usate come consumatori e come lavoratori schiavi sono perfette, cioè le utilizzi in due modi, cioè come produttore e come consumatore, e crei una montagna di denaro, di ricchezza per far vivere alla grande coloro che volendo potrebbero non fare niente, ma in realtà fanno dirigenti, si mettono là, dirigono aziende, ovviamente il loro è un ruolo importante di responsabilità, potrete dire quello che volete, ormai siete un bene seduti a queste persone, ma in realtà è solo il loro ego, in realtà loro vivono in maniera un po' diversa da quella che ci raccontano. Ma che succederebbe allora, tornando all'inizio, se noi decidessimo di fermarci tutti, tranne quelli che devono salvare vite? Cosa succederebbe? Queste persone tremerebbero perché croirebbe la produzione industriale, croirebbe il PIL, ma noi ci facciamo un doppio sciopero del consumo e della produzione, cioè il nostro lavoro non lavoriamo più e non consumiamo più perché non avendo grandi ricchezze, in reddito, rinunciando a quello che guadagniamo, viviamo un po' in miseria, cercando di prendere quello che abbiamo, un po' di scorte, di dispensa, oppure chi vive in natura si può mangiare questo, ad esempio, la pianta meravigliosa. Potrete notire bene, finocchietto selvatico, è buonissimo. Fare un esempio. Ecco, finutite di questo, è andata avanti un po' finché il sistema non crolla. Che ne pensate? Funzionerebbe? Buonissimo. Proprio, saporare. Allora, è proprio così che funziona. Cioè, in realtà, l'adlettica servo padrone di Hegel è ancora viva, ancora per poco, però sta finendo, però è ancora viva. E direte, l'azienda delocalizzano? Sì, però questa delocalizzazione avviene in un attimo. Se voi fate uno sciopero subito, intenso, completo, immediato, allora la questione cambia, perché non ce la fanno più a reggere questo tipo di situazione. Non riescono più a avere modo di compensare questo in breve tempo. Quindi noi, all'improvviso, smettiamo di lavorare e di consumare. Tutti in blocco, qualunque categoria. E lo so che è improponibile, perché ovviamente noi siamo, diciamo la verità. Siamo succubi, siamo sottoposti, accettiamo questi ricatti continuamente e siamo abituati a essere divisi, divide e timpera uno contro l'altro e non arriveremo mai a avere la lucidità di capire che l'unico modo sarebbe veramente fare questo mega sciopero e dire basta, finiamola qui, noi ci riprendiamo questo. Cosa dobbiamo chiedere per chiudere il video? Dobbiamo chiedere due cose. Uno, che sia istituito un limite alla ricchezza. Nessuna persona moralmente deve detenere più di, facciamo 100 milioni di euro? Io farei 10 però, 100 milioni di euro, ok? Non è che vogliamo abolire la proprietà privata, vogliamo mettere un limite alla ricchezza, abolire i super ricchi, li aboliamo. Poi, prima mossa. Seconda mossa, abolire posizioni dominanti sul mercato, cioè le grandi società, quelle più grandi, più tentacolari, le spacchettiamo e mettiamo un'altra regola, che le persone, cioè quelle che lavorano dentro queste società come dipendenti, ne diventino quote azionarie, cioè facciamo sparire la parte azionaria e loro diventano quota parte azionisti in quanto dipendenti. E chiaramente, dice, ma quello che c'è in maggioranza il pacchetto azionario, i grandi fondi, noi possiamo ottenere tutto se facciamo questo sciopero, perché andiamo a colpire il sistema, quindi possiamo richiedere quello che vogliamo. E quindi chiediamo questo, che vengano aboliti i grandi fondi, che vengano aboliti i capitali, ma semplicemente la quota delle società, che esistono anche senza capitale, le quote, esistono le società, le spacchettiamo fra tutti i dipendenti di lavoro in quella società, ovviamente uno di questi sarà anche l'amministratore delegato o anche il presidente, tutti insieme, ognuno ha una sua quota. Il presidente ha la stessa quota dell'operaio ultimo, quello che pulisce i bagni, va bene? Se facciamo questa cosa, noi abbiamo disarticolato il sistema, che è creato come capo oppressivo per tutte le persone, perché funziona così, non è che il ricco usa e spende soldi e poi a cascata vanno motossi come tipo in maffiano un vaso e l'acqua motossa scende sotto le persone, come la vecchio disegno del capitalismo, quindi allora il ricco che spende rende tutti ricchi, no, non funziona così, è il contrario, è il povero che con fatica porta su acqua e la dà al padrone, che poi la spende e la fa ricadere, e quindi senza quello che gli porta sull'acqua, qua il ricco non ce l'ha l'acqua, non ce l'ha, perché c'è solo dei numeri scritti su un computer, non c'è più altro, capite? Non vale nulla, e quindi noi potremmo ancora valere qualcosa e fermare questa cosa e arrivare a un momento in cui avremo queste tre cose, quindi tetto alla ricchezza, disarticolazione delle grandi società e quote fatte soltanto per i dipendenti di tutte le società. Non sto parlando di nazionalizzazione ancora, mi piacerebbe anche fare nazionalizzare la banca centrale, perché la banca centrale è chi ci sta a fare, eh? Ma chiediamo anche quello, nazionalizziamo la banca centrale, visto che siamo lì. Ecco, queste quattro, cinque cose che ho detto sono esattamente l'equalismo, quello che ho scritto e teorizzato anni fa ormai e che però non volete capire. Se noi potessimo arrivare a queste cose avremmo una democrazia vera, cioè noi potremmo contare e potremmo decidere senza avere nemmeno delle persone in mezzo che eseguono ordini dall'alto, perché non ci sarà più quell'alto. Se noi togliamo tutte le posizioni dominanti, il mondo sarà equo. Non avremo un comunismo, perché è stato un fallimento il comunismo, sappiamo. Avremo un mondo equo dove ogni persona conta per quello che sa fare, per il merito di ha, per le capacità che ha. C'è la proprietà privata, ci sono i diritti individuali, assolutamente, non ha nulla a che vedere con il comunismo. È libertà di impresa massima, molto più di ora, perché ora se fai qualcosa ci sono grandi gruppi che o ti acquisiscono o ti fanno chiudere. Che libertà di impresa è questa? Capite? Questo è veramente un mondo liberale, un mondo equalista, dove si unisce la spinta egoistica, quella che ha portato effettivamente al capitalismo e a un aumento della ricchezza, ma anche la spinta solidaria, quella che porterà a rispettare le persone per quello che è il loro valore individuale e anche quelle che hanno meno valore devono essere rispettate lo stesso, che sono meno capaci di creare il valore, che non sono buoni, non hanno voglia di lavorare. Tutte queste persone devono comunque rientrare nel sistema perché hanno delle qualità da poter esprimere e le esprimerebbero se gli deste la possibilità. Invece gli date un reddito universale per farle poltrire sul divano. Si fa questo sciopero o no? Arrivederci. Iscriviti al canale YouTube Chiocciola l'eremita, è gratis, e attiva la campanellina per non perdere nessun video.